Questa è una norma che a differenza di quella del Senato non consente che soggetti non colpevoli possano essere troppo facilmente coinvolti in indagini di tipo mafioso da voto di scambio. Abbiamo fatto un lavoro di attento maquillage, qualche volta anche di mutilazione di parti della norma così come veniva dal Senato, che era una norma che voleva troppo. Per aggredire la mafia in modo eccessivo si correva il rischio serio di mettere soggetti che inconsapevolmente si fossero trovati a contatto con questi soggetti inseriti nelle associazioni metterli in condizioni di subire processi penali. Si sa che in Italia subire un processo penale magari con misura cautelare è la vera sanzione. La sentenza arriva sempre troppo tardi.